bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video allora questo vi questa è vabbè lui è Dexter presente ciao a tutti gli amici bisogna fare questo questo video tra di noi che non avete voglio fare un video tra di noi quindi ho detto beh facciamo un video tra di noi oggi siamo qua quello che mi interessava era fare un avere un dialogo un dialogo allora c'è stato un periodo di questo intervista ok questa più che intervista dialogo un intervista che faccio domanda è un podcast molti dei ragazzi che stanno guardando questo video sicuramente vedono in me e in te quello che ti diranno tutti ogni tre secondi quando ti fermo l'infanzia ok è fino qua ci siamo ma l'interazione tra me e lui è sempre stata un po strana e allora io volevo chiederti perché io nei tuoi confronti ho avuto anche un po di competizione genuina però e quindi ti volevo chiedere tu come te la sei vissuta questa cioè mi hai odiato c'è stato un punto che tu mi hai odiato assolutamente mai una volta mi hai detto una cosa però una volta sì ma ha fatto rode questa iniziamo prima con la cosa e poi e poi dico tutto il resto una volta mi ha fatto rode che ma tipo mezzo copiato un video non mi aveva citato una cosa del genere e io l'ho detto poi ho chiesto pure scusa perché ho usato metodi modi io purtroppo sono umano quindi uso modi non ce l'avevo con lui assolutamente però una cosa c'è da dire noi per tanto tempo siamo stati lui il numero uno io il numero due in Italia questo possiamo dire perché i numeri parlano non è per vantaggio gli anni 2016 dal 2000 diciamo al 2015 2017 però poi abbiamo iniziato poi praticamente insieme io forse ho iniziato poco prima di lui questa è stata la nostra prima interazione per i siamo uguali i capelli che mi sono uguali pure i miei guarda sì c'era questa competizione genuina però i fan non so i tuoi ma sono tutti i miei erano convinti che io odiassi te e te odiassi me cioè i miei fan erano dobbiamo superare Fabi J io questa cosa non l'ho mai detta considera lui nel 2015 fu la prima persona che mi fece gli auguri per il milione di iscritti ma va tu sei stato il primo sei stata la primissima persona e tra l'altro mi hai scritto un messaggio bellissimo meraviglioso lo possiamo dire se vuoi io non mi ricordo un cazzo lui non se lo ricorda me lo ricordo niente perché veramente mi ha colpito questo ha detto complimenti per il mi ricordo il succo il messaggio complimenti per il milione di iscritti te lo meriti sono contento anche che sia tu a raggiunto perché io l'ho già raggiunto dopo di te poi ah il milione dopo di me l'hai fatto tu esatto mi sa di sì te sei stato il primo e il secondo primo ah no io sono stato il terzo allora i Bantellas i Bantellas tu hai il button col tuo logo anche tu ce l'hai? no il button col logo ce l'hai solo te io ho quello dopo che tra l'altro mi hai rotto te il mio button e allora lo raccontiamo dopo il solo quante robe ci sono vedi che ho due video qua se non lo sai c'è una meme non sai vabbè il messaggio il primo a farmi gli auguri è stato lui è stato Lorenzo e mi ha scritto vabbè sono contentissimo che se mai qualcuno in futuro mi dovesse superare sono contento che sarei tu questo l'hai scritto te è parlato è vero? figo e oggi siamo arrivati qua perché volevo capire appunto come tu te la fossi vissuta no no io la vivevo bene a me non avevo neanche la cosa di devo superarti mentre il contrario di altri colleghi di cui non farò nome che era devo superare Dexter eh perché devo superare Favij eh perché devo superare i mates molti colleghi hanno questa cosa del devo superare sì devo sì soprattutto ai tempi era una cosa io non ce l'ho mai avuta perché poi comunque ti crea della negatività al dover per forza no perché devo fare ma ci sono non facciamo ci sono tanti colleghi che hanno questo metodo di approccio e però spiegami sta cosa del button che io ti ho scassato scusa ah bellissimo io ti ho rotto il golden button in realtà non l'hai rotto te in realtà ah perché ce lo consegna ce lo consegna se me lo ricordo a Milano sì lui per sbaglio prese il mio button ed era rotto ed era proprio il mio ha detto cavolo ma l'ha rotto Favij io quello che tocco rompo regà abbiamo fatto un sacco di discorsi positivi quindi raccontavi di quella volta in cui ti sei incazzato va bene va bene io mi ricordo sta scena a questo punto arriva lui era lo stesso giorno in cui ti ho scassato il button quindi era già incazzato di tu è vero quindi arriva la mia ok comunque no no vabbè io purtroppo non è che voglio essere aggressivo ho i metodi da fare un po' da romano infatti dopo gli ho chiesto pure scusa te lo richiedo ancora perché io per scherzare ho detto dopo te devo dire una cosa tipo così tipo minacciandolo ma non è che volevo minacciarlo io così mi giro c'è lui mi devi spiegare una cosa io va bene tutto va bene prende ispirazione tutto io ho detto a me me la fastidio perché questo video mi hai fatto tipo la copertina uguale e il video uguale le foto uguale ma me vuoi citare ma che vuoi che video era non mi ricordo più non me lo ricordo manco era una stronzata dico questa piccola cosa tanto io volevo fare sempre un video io volevo fare sempre dei video con lui no però non glielo ho mai chiesto ma no perché perché volevo fare talmente una cosa cioè non volevo fare un video con lui che fosse stupido volevo fare un video bello sì 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 censurami lo volevo fare con i controcazzi no non la censurerò ma allora tu c'hai avuto un periodo buio sì molto buio sì ok ho avuto mi è iniziata depressione che mi è durata poi due anni ero molto stressato nel senso che io stavo dodici ore davanti al computer a lavorare io mi alzavo pensavo a youtube lavoravo su youtube per youtube andavo a dormire sognavo youtube la prassi di chi ha fatto questo lavoro tutti i giorni tutti i video esatto è giusto sapere che anche se le cose ti vanno bene a livello lavorativo e tutto quanto non significa che tu non non puoi essere depresso certo perché purtroppo ho passato due anni molto brutti ho preso dei farmaci ovviamente i farmaci non è che mi hanno aiutato con la creatività e tutto quanto e quindi è stato un periodo molto brutto per fortuna poi ne sono uscito e quando sono uscito poi vabbè mi sono anche insomma fidanzato la mia compagna Valeria che mi ha aiutato anche a uscire dal periodaccio e una volta uscito io avevo voglia di fare video perché comunque avevo voglia di rimettermi in gioco però ho voluto prendermi tipo una vacanza dalla depressione e quindi godermi poi quello che non mi so goduto quando stavo per dieci anni concentrato su YouTube perché stavo sempre a casa quindi godermi un po' la vita i momenti intimi anche con la mia compagna e e stare ritrovare la serenità che non ho avuto per due anni e poi ora insomma ho tanti progetti tornerò anche su YouTube con con varie cose quindi sono molto positivo e finalmente felice insomma di di aver ripreso in mano la mia vita bene bene sono molto contento grazie per averlo condiviso anche perché comunque sono cose personali vabbè dai comunque grazie di questa allora è stato un video bellissimo grazie al buon Dexter faremo un video faremo un video tra poco dove alziamo un po' l'asticella iscrivetevi al canale anche a quello di Dexter che tra un po' riparte faremo cose incredibili anche insieme perché appunto dobbiamo parte con la manastag vabbè ma non speriamo niente ci vediamo telecomando la regia che è la number one sempre telecomandi diversi che non so cosa devo cliccare però funziona a qualsiasi tasto benissimo grazie ciao